buongiorno a tutti da valerio villa da metropolis immobiliare benvenuti anche oggi in un nuovo video dei nostri immobili oggi vi accompagno a riva san vitale in questa bellissima località e vi presenterò un appartamento di quattro e mezzo locali ubicato nello stabile che vedete alle mie spalle uno stabile del 1992 come vedete siamo in uno bellissimo giardino condominiale che è proprio di questa proprietà dove abbiamo il barbecue dove abbiamo uno spazio svago relax anche per chi ha bambini è una località quella di riva san vitale caratterizzata da ampie aree pianeggianti abbiamo tanto verde e sicuramente anche il lago a pochi minuti e i principali servizi quindi una posizione decisamente strategica anche tra mendrisio e lugano nella descrizione poi del video arriveranno nei prossimi giorni anche tutti i dettagli dell'unità che è un 4 e mezzo locali attualmente che deriva dall'unione di due unità quindi uno spazioso 4 e mezzo con ben tre terrazze abbiamo un riscaldamento a gas quindi con erogazione serpentina e tre terrazze adesso andremo a visitare tutti gli spazi e abbiamo ovviamente anche un posto auto in autorimessa e uno esterno così vi ho dato una breve panoramica della proprietà appunto che andremo a visitare adesso seguitemi che vi accompagno appunto al primo piano ovviamente raggiungibile anche con l'ascensore di questo stabile per iniziare la visita ma prima vi ricordo come sempre di iscrivervi al nostro canale youtube e di attivare chiaramente le notifiche con la campanella e di farci sapere poi nei commenti cosa ne pensate di questo oggetto adesso seguitemi che vi accompagno al primo piano per iniziare la visita venite con me bene eccoci arrivati quindi al primo piano che è raggiungibile sia con l'ascensore sia con le scale quindi dall'autorimessa e accediamo all'unità dove abbiamo su quest'altro lato poi andremo a visitare un'altra parte delle camere e quindi la zona notte abbiamo l'ingresso con gli armadi a muro vi ricordo che l'appartamento deriva dall'unione di due unità quindi un appartamento davvero spazioso e appunto iniziamo quindi accedendo tramite questo bel corridoio abbiamo un salottino che ovviamente può essere convertito in una camera eventualmente in un ufficio in una camera ospiti con l'accesso al bel balcone abbiamo addirittura tre terrazze quindi di 8 metri quadrati l'una un contesto molto bello con il verde siamo a riva san vitale e abbiamo una situazione decisamente comoda pianeggiante vicina a tutti i principali servizi in questo bellissimo comune qui abbiamo poi un bagno con vasca quindi abbiamo addirittura tre bagni per questa unità che attualmente è strutturata come grande 4 e mezzo locali di oltre 125 metri quadrati più 25 metri di terrazze e può essere eventualmente convertito utilizzando questo spazio come ulteriore camera in un 5 e mezzo attualmente qui abbiamo come vedete la sala da pranzo collegata con la cucina è un'unità che è stata edificata nel 1992 ma si presenta veramente molto bene abbiamo un parquet nel quale ci si specchia addirittura dentro dal tanto che è ben tenuto e sicuramente in ottimo stato di manutenzione qui abbiamo anche in questo caso l'accesso alla terrazza un'altra terrazza a 8 metri quadrati quindi come dicevo tre terrazze della stessa dimensione questo è un aspetto sicuramente molto interessante perché abbiamo uno sfogo esterno praticamente da ogni locale qui abbiamo un bagno con doccia e che funge anche dalla lavanderia privata poi questa porta ci permette di accedere alla cucina ovviamente possiamo accedere anche dalla sala da pranzo come abbiamo visto e poi abbiamo un bel salotto con l'angolo divano tv come vedete l'appartamento è anche molto ben appunto illuminato quindi abbiamo delle ottime aperture anche qui abbiamo l'accesso alla terrazza come dicevo praticamente da ogni locale abbiamo un'accessibilità all'esterno come vedete anche tutto tenuto in ottimo stato di manutenzione l'appartamento può essere abitato così com'è come dicevo guardate questo palquet ci si specchia dentro abbiamo angoli con armadie a muro un po' in tutta la casa quindi spazio ottimizzato al cento per cento e adesso vi invito a seguirmi così tornando dal corridoio dal quale siamo partiti andiamo a visitare quella che è l'altra parte con le camere da letto i bagni eccetera venite con me bene quindi accediamo in questa parte quindi in questa ulteriore parte dell'appartamento dove abbiamo degli armadi a muro come avete visto ampi e spaziosi all'ingresso e accediamo in quella che è a tutti gli effetti la vera e propria zona notte con delle camere generose abbiamo una bella camera matrimoniale decisamente spaziosa come vedete ci sta un grande letto matrimoniale con i suoi comodini eventualmente cassettiere armadi anche qui abbiamo l'accessibilità alla terrazza poi abbiamo ancora un altro disimpegno con degli altri armadi a muro che ci consente di accedere sia al bagno con vasca finestrato ovviamente sia a quella che è l'ultima camera in questo caso la quarta camera possiamo dire dell'appartamento anch'essa ovviamente un bellissimo spazio per un letto per un armadio quindi può essere eventualmente una camera o un ufficio e anche in questo caso abbiamo una terrazza dedicata adesso vi riaccompagno nella zona giorno per fornirvi tutti i dettagli di questa unità e quindi completare la visita con tutte le informazioni e gli elementi per contattarci venite con me bene come di consueto quindi siamo tornati nella zona giorno di questo bellissimo appartamento di 4 e mezzo locali convertibile in 5 e mezzo locali a riva san vitale abbiamo visto un appartamento quindi un'unità che si trova al primo piano di questo stabile edificato nel 1992 è un appartamento di circa 125 metri quadrati ai quali aggiungere circa 25 metri quadrati di terrazze abbiamo tre terrazze quindi spaziose e sicuramente un optional fantastico per una proprietà come questa in una zona così bella appunto come quella di riva san vitale abbiamo in dotazione un posto auto nell'autorimessa uno esterno e ben due cantine perché come dicevo all'inizio del video questo appartamento deriva dall'unione di due unità che sono state unite quindi anche per questo è strutturato davvero molto bene con una grande zona notte separata con dei bellissimi armadi a muro e con tutta questa zona living che come dicevo può essere in parte convertita anche in una ulteriore area notte e quindi avere anche una configurazione 5 e mezzo locali. Nella descrizione qui sotto arriveranno comunque nei prossimi giorni tutti i dettagli specifici della proprietà oltre a quelli che avete già potuto vedere nel video e chiaramente anche il link come al solito proprio qui sotto in descrizione per poter accedere alla scheda di questo immobile per poter conoscere il prezzo e tutte le specifiche e i dettagli. Nel frattempo se foste interessati a una maggiore informazione nella delle maggiori informazioni o eventualmente ad una visita non esitate a contattarci tramite il numero di telefono che vedete qui sotto o tramite il sito metropolis immobiliare punto com e saremo ben lieti di fornirvi tutte le informazioni che necessitate e anche di fissare con voi una visita. Prima di salutarvi io vi ricordo come sempre di iscrivervi al nostro canale youtube per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità relative agli immobili di metropoli se attivare le notifiche con la campanella e ovviamente farci sapere nei commenti cosa ne pensate di questo oggetto e anche lasciarci un like se vi è piaciuto il video. Io vi chiedo in ultimo che se conoscete qualcuno o voi stessi dovete vendere la vostra proprietà non esitate a contattarci sempre al contatti che vedete qui sotto e quindi a informarci del fatto che volete vendere la vostra proprietà o ripeto conoscete qualcuno che ha questa necessità poiché possiamo mettere a vostra disposizione un servizio veramente unico a 360 gradi per poter vendere la vostra proprietà nel minor tempo possibile alle migliori condizioni possibili ma soprattutto senza sorprese. Io vi ringrazio quindi per essere stati con me anche oggi nella visita di questo bellissimo e ampio 4 e mezzo locali a Riva San Vitale vi auguro una splendida giornata e ci vediamo al prossimo video